e la ciao a tutti da grande cinema con marco eccoci arrivati alla video sfida e quindi appunto oggi rispondo alla video sfida proposta dal canale zombie gamer il quale ci propone il gioco come vedete rai maiz arcade e niente bisogna prendere delle palle come vedete tipo come pacman e poi a fine schema si sceglie altre stanze a piacimento alcune più facili alcune più difficili come zombie gamer a volte come vedete se si prendono di un tipo di palle si può anche sparare ai nemici ok chiudo un attimo la luce e proviamo a fare la prima partita già mai visto questo gioco sembra un po difficile ok partiamo intanto faccio i quattro angoli qua possiamo anche a un certo punto gli avversari cominciano ad essere sempre più lauce ma anche noi possiamo aumentare la velocità ma cazzo sono andato su perché è andato giù non riesco a capire questo gioco purtroppo quando si aumenta la velocità la guida è incontrollabile ed è successo come è successo adesso ok andiamo qua ok qua facciamo tutta la parte bassa e dopo la parte sinistra con calma per dire qua adesso seguo ok ok adesso facciamo tutta la parte destra ok adesso adesso facciamo tutta la parte sinistra con calma per dire qua è difficile bisogna andare subito sopra perché se non si prendono le munizioni poi qua ok ok sparo ok sparo ok sparo ok sparo andiamo qua andiamo qua 22420 oscocane questo qua non mi piace proprio e qua bisogna avere la fortuna di prendere qua bisogna avere la fortuna di prendere io che culo meno male che quello ha girato se non mi avrebbe preso ok il terzo schema fatto qua c'è il masticiatolo qua cos'è ok 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 andiamo qua ok ok adesso qua posso sconare ok ok finito andiamo qua 35730 cos'è il quinto schema questo qua e non ma se non si prende le pallottole va a seguire mamma mia nooo ma preso ok finito anche qua andiamo qua 44.680 mamma mia chi è? porco cane no ma non è azzerola allora 46.140 adesso non mi ricordo più se era la seconda o la terza e faccio un'altra a caso mai quella non viene messa come partita ok qua scriviamo facciamo un'altra l'ultima non so se è l'ultima questa o comunque prendiamo questo così loro rallentano ok prima partita finita andiamo al secondo schema ok qua allora faccio tutte le palle di basso e dopo tutta appunto tutta la parte sinistra ok seguiamola ok ah porco cane eh perchè quella sfera la mi dura pochi secondi credo di fare il tempo invece va bene va bene vediamo qua vediamo qua vediamo qua non so un piccolo ok ok finiamo ehm finita vediamo qua vediamo qua guardiamo di qua vai su tutto mostro Mamma mia. Pazzerola. 32.100 ma rimane meglio il secondo punteggio e seconda partita ma non so se era la seconda o terza quella. Ok la mia sfida finisce qui e niente.